Elezioni regionali 2024, il capoluogo.it vi presenta i candidati al Consiglio regionale. Oggi con noi Mario Quaglieri, che conosciamo già come assessore regionale con importanti deleghe, tra cui quella al bilancio, nonché in passato anche presidente di altrettanto importanti commissioni. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, al di là dell'aspetto politico che naturalmente soprattutto gli addetti ai lavori conoscono molto bene, chi è Mario Quaglieri, che lavoro fa, quali passioni ha? Beh, Mario Quaglieri oggi è un uomo inserito in un contesto sociale molto aperto, è un medico che si è specializzato in chirurgia generale ed opera nell'ambito della sanità dal 1995. Ha ricoperto vari ruoli, ho fatto il chirurgo in ambito ospedaliero, in ambito di strutture convenzionate, ho coperto quasi tutta la provincia in strutture da Avezzano, Castel di Sangro, L'Aquila e Canistro, quindi veramente una permeabilità territoriale importante. Lavoro, senza altro, è la più grande passione, il nostro è un lavoro delicato, un lavoro che o si ama o non si può fare, ma nello stesso tempo ho avuto la possibilità e anche l'emozione di continuare a vivere quelle che sono le mie aree di origine, dove io abito a Trasacco e con gli amici di sempre condivido la mia vita. Benissimo. Torniamo alla politica adesso, abbiamo già accennato brevemente i suoi importanti incarichi ai vertici regionali, quindi quali sono gli obiettivi e le priorità di questa nuova candidatura? Allora, innanzitutto mettiamo in campo un bagaglio di esperienza importante. Penso di aver ricoperto tutti i ruoli dell'albero costituzionale, da iniziale consigliere d'opposizione del mio paese, poi vice sindaco, due volte sindaco. Nel 2019 iniziamo questa carriera, questa avventura nella consigliatura regionale, iniziata un po' come una scommessa di territorio, come una scommessa di un gruppo di amici forti di un'esperienza amministrativa importante, dove si sono visti i veri risultati e una svolta epocale di quella che era la nostra territorialità. Abbiamo cercato di portare questo bagaglio di esperienza anche dal livello regionale, con una visione un po' più ampia e quindi anche di lunghe vedute. Ho avuto più ruoli, ho avuto il ruolo di Presidente della Commissione Sanità, ringrazio infatti il Presidente Marsilio che ha creduto in me anche sia per la vicinanza e l'affinità professionale, sia per l'esperienza politica, quindi mi ha dato il ruolo di Presidente della Quinta Commissione Sanità e anche Sport e Cultura. Grandi successi li abbiamo avuti, soprattutto di quelli legislativi, ricordiamo innanzitutto nel 2019 la modifica a quella che è la legge sulla medicina dello sport. Sappiamo che era una legge molto datata, era una legge blindata da piccole lobby che la difendevano in maniera quasi feudataria. Noi siamo riusciti ad invertire, a rompere questo sistema, siamo riusciti a portare quella che è la medicina dello sport in maniera in prossimità, quindi verso tutte le zone, predileggendo soprattutto quelle che sono le aree interne. La nostra provincia dell'Aquila, che ha una distribuzione oligrafica particolare, ha una frammentazione di popolazione importante e quindi pochi centri in tutta la provincia non potevano soddisfare quelle che erano le esigenze di sicurezza, soprattutto dei ragazzi che si avvicinano all'attività sportiva. Altro grande successo è stato quello di aver portato a termine la legge quadro, per quanto riguarda la cultura e il turismo. La regione Abruzzo era dotata di una miriade di piccole leggine che interessavano in maniera puntuale e circoscritta quello che era l'ambito, tutto il largo respiro, l'ampio respiro che poteva avere invece la cultura e il turismo per la regione. Siamo riusciti a racchiudere tutte queste leggine in una legge quadro che governa oggi e governerà in futuro questa regione, determinando quindi traguardi e obiettivi ben precisi in maniera stabile e continuativa, così che non esisteranno più manifestazioni spot del momento, a seconda della maggioranza del momento, ma esisterà una programmazione culturale, una programmazione turistica stabile in una regione che ne ha bisogno per il proprio sviluppo. Ecco, abbiamo parlato di provvedimenti importanti, ma c'è qualcosa che non è riuscito a fare in questi cinque anni, qualcosa che è rimasto in sospeso, che vorrebbe portare a termine magari nella prossima consigliatura, legislatura, mi scusi. Nella prossima legislatura ci sono tante cose, soprattutto cose a cui abbiamo dato inizio e dovranno vedere la realizzazione. Non ci dimentichiamo che per la prima volta la regione Abruzzo ha approvato la sua rete ospedaliera. Sembra una parola così complicata che oggi tutti si riempiono la bocca con persone a favore e persone contro. La rete ospedaliera è un passaggio fondamentale, che ridà dignità programmatoria da un punto di vista sanitario che era una regione che per 30 anni non l'aveva avuta. Tutte le reti ospedaliere precedenti erano state formulate da commissari. Questa è la prima rete formulata, scritta e approvata da un organo di maggioranza, quindi politica, con una visione di sviluppo importante per quanto riguarda la sanità. Questa oggi l'abbiamo approvata. Questo ci svincola l'edilizia sanitaria. perché oggi mi ripropongo e devo vigilare su quelli che sono gli sviluppi dell'edilizia sanitaria. Noi avremo oggi la possibilità di costruire strutture sanitarie completamente nuove e dare una risposta ai nostri utenti, ai nostri concittadini, almeno una dignità di accoglienza in un nostro gomio che oggi i più giovani presentano, veramente, soprattutto nella nostra provincia, a Pezzano, si parla già di un ospedale progettato negli anni Sessanta. Quindi capiamo che tipo di sofferenza o di disagio può avere chi afferisce in quei tipi di ospedali. L'importante è la messa in pratica della cosiddetta rete territoriale, la cosiddetta medicina di prossimità. Veniamo fuori da un'esperienza devastante, che è quella del Covid, dove questa regione si è vista impegnata insieme a tutte le altre regioni d'Italia in maniera importante e siamo riusciti a dare delle risposte concrete. Siamo riusciti a dare risposte per un'emergenza che era completamente nuova, un'emergenza che nessuno oggi con i secoli ma non si scrive la storia. Ma vivendo un disagio così imperante, nuovo, dove la stessa scienza non era in condizione di porre rimedio, si è riusciti comunque a mantenere un minimo di assistenza, si è riusciti comunque a dare, anche arrancando, man mano che l'evoluzione anche della conoscenza della malattia ci portava delle soluzioni diverse, a rincorrere, a dare delle risposte. Ricordiamo la costruzione, l'apertura, ad esempio, del G8 qui all'Aquila o come dell'ospedale Covid a Pescara, che hanno cercato di dare risposte importanti a tutte le criticità di sanità. Da lì la necessità e l'idea di sviluppare la cosiddetta medicina di prossimità. Abbiamo approvato un programma di sviluppo, soprattutto delle case della comunità, quindi le cosiddette dove è la sanità che va nei territori e non più il territorio che afferisce ai nosocomi principali. Oggi l'ospedale deve essere solo riservato a quelle persone, a quelle patologie, a quelle acuzie, che hanno veramente la necessità di un'ospedalizzazione, mentre portare sul territorio la medicina, portare sul territorio sanità, oltre a creare meno disagi, quindi dagli spostamenti, soprattutto le persone più fragili, gli anziani, a dare una risposta in loco, ci permette quindi di aumentare la dignità di una regione e soprattutto aumentare la dignità dell'uomo abruzzese. La politica, soprattutto quando viene concretizzata in un'assemblea che leggifera, ha bisogno di una visione. Lei come vede l'Abruzzo fra cinque anni? L'Abruzzo fra cinque anni, se viene come spero che sia, ma come sono sicuro che sia, confermata dall'amministrazione Marsilio, dall'amministrazione di centro-destra, un'Abruzzo fra cinque anni, lo vedo, non dico tanto al pari, ma avrà coperto quel gap che ci separa dalle migliori regioni italiane in maniera forte, perché oggi abbiamo avuto i primi cinque anni per programmare, avremo i cinque anni per realizzare. L'importante sono le grandi opere infrastrutturali che sono messe in campo, il grande finanziamento per quanto riguarda l'impianto in riguo del Fucino, che ormai è arrivato, è addirittura d'arrivo con la progettazione depositata e quindi si parte con la gara. I due lotti che già sono partiti della Pescara-Roma, anche questa, oggi c'è chi grida a leggenda, di fatto i primi due lotti sono partiti, quindi si parte in maniera concreta già da questa amministrazione a dare delle risposte. L'assegnazione e lo sviluppo dell'interporto di Avezzano, che era anche un'altra struttura che per venti anni è stata lasciata in disuso. Questa amministrazione è riuscita a dare risposta, a poterla assegnare e a poter dare quindi anche un incentivo economico, oltre che un volano economico e lavorativo, per quelle zone che fanno parte anche l'area interna. Strategia delle aree interne. Aree interne, sapete, anche una mia delega, penso che siamo riusciti a costituire, a coprire tutte le aree disagiate con delle aree interne nuove, vecchie che già abbiamo indirizzato e sono partite le prime misure. E le nuove che si sono ormai strutturate hanno avuto anche il loro inquadramento anche da un punto di vista sia economico che sia di sviluppo, con una collaborazione fitta, una collaborazione costruttiva tra ente regione e i sindaci dell'area interna. Allora ringraziamo Mario Quaglieri, candidato alle elezioni regionali del 10 marzo con Fratelli d'Italia.